Bene amici, video super flash praticamente in tempo reale perché ci tenevo ad avvisarvi tempestivamente. Attesa finita, lo vedete anche in sovrimpressione, sono partite, o meglio, stanno partendo proprio in questi istanti le ricariche della carta acquisti, della social card, l'attesissimo bimestre gennaio-febbraio 2023, ricariche elaborate sulla base del nuovo ISEE. Dunque, verificate subito e fatemi sapere nei commenti e se anche voi effettivamente state iniziando a ricevere questi flussi. Attenzione però, questi sono i primi flussi perché ormai lo sapete, IMSS con la carta acquisti va in modalità spezzatino, vedrete infatti che man mano nel corso del mese arriveranno le ricariche in più tranche e per tutti, chi prima, chi dopo, quindi se anche non vi fosse arrivata in questo momento non disperate che le ricariche arrivano. Detto questo, insomma, il mio dovere tempestivo l'ho fatto, non scordatevi un bel like proprio per premiare questi flash che sono praticamente in tempo reale, vi aspetto nei commenti se avete dei dubbi. Alla prossima, un abbraccio a Mr. Lull. Alla prossima.